Gratis all'allineamento alla missione dell'anima! Guarda fino alla fine questo video e scopri come venire anche tu al nostro corso dal vivo che faremo a ottobre. Gratuitamente! Se non lo sapessi, l'allineamento alla missione dell'anima è il corso in cui scopri lo scopo della tua vita e impari ad offrire il tuo dono al mondo. Questo per te significa che migliorerai il tuo benessere, le tue relazioni e migliorerai tantissimo il tuo business perché avrai finalmente una bussola che sia quella definitiva. Prova ad immaginare quanto puoi essere più deciso e più fiducioso nelle tue decisioni nel momento in cui devi prendere una decisione che riguarda il tuo lavoro. Quindi quando hai una bussola dentro di te, quando già sai qual è la tua direzione. Questo per te significa migliorare tutte quante le tue relazioni sociali, migliorare i tuoi rapporti in famiglia, migliorare il tuo benessere, il livello del tuo benessere, migliorare dal punto di vista soprattutto del business perché prova ad immaginare quando devi prendere una decisione quanto puoi essere più sicuro della decisione che prendi quando conosci qual è la tua direzione, la tua direzione più profonda. Ciao a te che stai guardando in questo momento. Sono appena tornata dal Brasile dopo un altro mese e mezzo con i sciamani curanderi nella foresta, nella montagna sacra dove ho imparato tante cose, ho fatto tante tante esperienze molto profonde e sono molto felice di condividere con te e sono molto contenta di poterti dare, diciamo, il concentrato di tutte le esperienze. principalmente la cosa più importante che ho imparato durante il periodo del Brasile è servire gli altri, ma non servire così nel senso classico in realtà è servire il divino verso l'umanità quindi seguire concretamente la missione dell'anima sulla terra questo è ciò che ho fatto in modo cellulare e sarò davvero felice di condividere con te anche perché mi ricordo che tempo fa volevo partecipare a varie esperienze, a vari corsi a vari eventi che sentivo che erano per me per la mia crescita, per la mia trasformazione per l'evoluzione su questa terra che erano allineate alla missione dell'anima e non potevo partecipare quindi per agevolare anche le persone che vorrebbero partecipare ma non possono partecipare per vari motivi allora noi abbiamo pensato di creare una situazione, una soluzione un social contest in cui tu potrai darci una mano ci possiamo dare una mano a vicenda perché la nostra missione è di aiutare sempre più persone a portare un po' di risveglio dentro di sé quindi dicevo che abbiamo creato un social contest in cui tu tranquillamente puoi ricevere gratuitamente due biglietti omaggio per te, il tuo partner, per tua mamma è già successo che alcune persone sono venute con la mamma al corso o con entrambi i genitori quindi puoi utilizzare per tuo figlio, per tua figlia è già successo tante volte negli anni che sono venuti con i familiari e hanno veramente ringraziato tantissimo perché è così è un aiuto da parte nostra perché ci siamo stati e ci sono stata e so cosa vuol dire così aiutiamo sempre più persone che possono essere i nostri amici che possono essere i nostri familiari che possono essere amici degli amici che possono essere semplicemente che incontriamo casualmente che sappiamo che non è mai un caso ti abbraccio virtualmente e ti mando tanta luce questo è un corso molto importante e in questa occasione non solo vinci tanti premi ma dai anche la possibilità a tanti amici di venire su questa pagina quindi diffondi consapevolezza e noi siamo qui al servizio sia tuo che degli amici quindi è una situazione in cui vincono tutti allora forza guadagnati questo biglietto per allineamento alla missione dell'anima gratis anzi se arrivi prima addirittura i biglietti sono due quindi sbrigati perché questi sono gli ultimissimi giorni di contest e poi si chiude il contest mi raccomando grazie a tutti